9 anni e 4 mesi di reclusione e questa la pena inflitta a Clara Vannini, la 58enne che il 25 settembre 2017 uccisa a colpi di Mattarello e il marito Enzo Canacci a Terra Nuova Bracciolini. Il PM Angela Masiello aveva chiesto per la donna 16 anni di reclusione, ma il giudice Fabio Lombardo ha invece optato per una pena minore, facendo prevalere la semi-infermità mentale sull'aggravante del rapporto di parentela. Secondo il perito incaricato dal giudice Massimo Marchi, infatti, dietro al drammatico gesto ci sarebbe stato un caso di amnesia anterograda, ossia la donna avrebbe agito per un cortocircuito che avrebbe così ridotto le sue capacità di intendere e volere. Il processo a carico della donna accusata di omicidio volontario si è celebrato ad Arezzo Corrito abbreviato, che prevede in caso di condanna lo sconto di un terzo della pena. La donna, presente questa mattina in aula dopo la sentenza, è stata riportata al carcere di Sollicciano. Il dramma si consumò nel settembre 2017 all'interno delle mura domestiche, a seguito di un banale litigio tra i due coniugi. Il marito, infatti, voleva uscire per la festa del perdono di terra nuova, mentre la donna non ne aveva voglia, a ritrovare il cadavere e la figlia una volta rientrata in casa. La 58enne, invece, era sopra il divano, assopita dopo aver ingerito dei farmaci.